La Regione Campania garantisce ogni anno il diritto alla mobilità gratuita ad oltre 120.000 studenti. Da quest'anno l'abbonamento è digitale, subito disponibile su smartphone. Vogliamo diventare la prima Regione d'Italia per la digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese, dice il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. È una delle iniziative del trasporto gratuito più significative prese dalla Regione Campania. Ed è una di quelle iniziative che collocano la Campania all'avanguardia in Italia. L'investimento che facciamo è un investimento importante, perché decidere di investire quasi 30 milioni di euro l'anno non è una scelta banale. È un progetto ambizioso di modernizzazione di tutta la Regione, oltre che di valorizzazione del merito e di incentivo allo studio e alla formazione. Grazie. Grazie.